Allora, clicchiamo su questo filtro ASMR Challenge, vediamo cosa esce. Make up, non ce l'avevo pure in mano. Fermo, 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 andiamo avanti, vediamo cosa esce. Cinque trigger, veloci, ok? Ok, andiamo avanti, vediamo cos'altro esce. Ma un sound? Sento un nuovo scavolare. Fatti. Make up ASMR di nuovo. Ecco. Stai ferma, ferma, che ti applico per bene il lipgloss. Intanto vediamo cos'altro esce. Bene. Esce il tapping ASMR. Vediamo cos'altro esce. Hairplay. Spazzolab. 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 negatività